Buonasera, terza serata di questa seconda parte dell'estateria cesa, stasera è un giorno un po' particolare perché per certi versi è una piccola festa perché abbiamo qui stasera degli ospiti veramente importanti, che hanno tante cose da dirci, per cui credo che parlerò pochissimo perché ci sono loro che sono autorevoli e competenti, possono arricchire la serata con il loro contributo, con le loro opinioni. Stasera parliamo di rifiuti, rifiuti di terra, rifiuti di mare, quindi una storia che in qualche modo si intreccia con la storia di Riace, vedremo come, sentiremo le opinioni dei nostri ospiti e amici. Questa storia è talmente grande, talmente impegnativa, talmente lunga e difficile da raccontare che non vi nascondo l'imbarazzo che provo perché dicevamo prima che una battuta partiamo dai ciucci di Riace per arrivare alle navi dei veleni. È un po' difficile gestire una materia così fluida, così delicata, stiamo toccando uno dei punti scoperti, dei nervi, dei scoperti del sistema di governo di questa regione, del nostro paese, ma perché no, dell'intero continente, del mondo, cioè il traffico illecito di rifiuti è sicuramente una cosa che rigiama la memoria racconti, storie, avventure che stasera appena appena sfioreremo perché è un tema grandissimo. Quindi chiedo a loro e ai nostri ospiti di aiutarmi anche a comporre questo ragionamento che cercheremo di proporvi nella maniera più chiara possibile. Questa è la prima cosa. Gli ospiti stasera credo che li conoscete tutti molto bene perché da Mimmo Lucano, che è il padrone di casa, quindi stasera ha l'onore di introdurre con la sua relazione, con la sua storia, che ha avuto a che fare con i rifiuti perché è stato incriminato anche per aver assegnato un appalto ad una cooperativa che si occupava dei rifiuti e poi lo spiegherà bene lui. Quindi sappiamo che in questo almeno anche Riace ha avuto un punto di contatto con questa vicenda dei rifiuti. Luigi De Magistris lo conoscete benissimo perché ha una carriera sia professionale come magistrato, che come politico che interseca quella della storia della regione Calabria, quindi è un fan della Calabria, però diciamo al di là di questo è stato magistrato per molti anni a Catanzaro, è stato titolare di inchieste importantissime come la più famosa che ricordo io, almeno spero anche voi la ricordiate, il Why Not, quella che l'ha reso famoso perché la reazione a questa sua inchiesta è stata violentissima e ha comportato anche delle scelte radicali per la sua vita. Io lo ricordo affettuosamente come sindaco di Napoli dal 2011 al 2021 perché con il Festival del Cinema dei Diritti Umani di cui sono coordinatore abbiamo avuto un sacco di scambi. Un ricordo bellissimo che io lo dici è quello di quando arrivò, eri sindaco da pochissimi giorni, arrivò a Napoli Marco Cavallo, cioè il famoso cavallo blu che facevamo venire da Trieste perché era il simbolo dell'esperienza basagliana e non era mai arrivato a Napoli questo cavallo. Lo facciamo venire, coincise con i primi giorni del tuo governo della città, quindi ci ritrovammo sotto la galleria e sfilammo insieme con questo cavallo tutto azzurro che è famoso in tutto il mondo perché rappresenta la storia dell'esperienza basagliana, sfilammo per le vie di Napoli, per le vie centrali. Il cavallo del Galoppoli. Ecco, lui galoppava, il cavallo invece camminava, diciamo trascinato da tante persone perché è un cavallo enorme ed era, fu una cosa molto suggestiva e mi piace ricordare che alla fine, siccome c'era tanta gente che faceva ala al passaggio del cavallo, un signore piuttosto anziano mi toccò, mi fermò e disse avete avuto una bella idea? Dico, grazie, dico, è una cosa importante, l'abbiamo voluto portare a Napoli. Ma chi stia, un cavallo a Napoli? Io mi si la mani di capire che era azzurro, quindi ovviamente fu confuso con il ciuccio del Napoli. Questa fu la prima esperienza. Poi abbiamo lavorato molti anni insieme perché il Comune di Napoli è partner fondamentale del festival, quindi siamo incrociati tante tante volte. Bene, una cosa mi piace ricordare, l'ho trovata nella tua storia, insomma, un modo per presentarti perché raccontare tutta la parte politica, anche fino alle elezioni in Calabria, è un po' troppo complicato. C'è questa storia che mi piace molto, del premio Vallariotti Impastato che ti hanno dato nel 2017, con due parole di linea un po' il profilo politico e umano di Luigi De Magistris. gli è stato assegnato con la seguente motivazione, per avere combattuto criminalità e corruzione da più di vent'anni da magistrato e politico, per avere rotto il rapporto tra mafia e politica nella gestione politico-amministrativa della città di Napoli e per avere contribuito al riscatto morale di Napoli ed allontanato la camorra, rompendo il sistema dei rifiuti e delle eco-mafie. Beh, mi pare che è una cosa veramente bella, quindi, insomma, è un modo sintetico per raccontarti. E poi c'è Nuccio Barilà, che insomma ci conosciamo da un po' di tempo perché ci siamo anche qui incontrati col Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli su qualche percorso comune, attivista, giornalista, ecologista, non so quante cose, anche politico, perché credo che tu hai un'esperienza politica piccola ma significativa perché hai fatto parte della giunta di Italo Falcomatà a Reggio Calabria, giusto? Sì, è un ricordo importante anche questo. Comunque, diciamo, stasera l'abbiamo voluto con noi anche perché toccando la parte alta del ciclo dei rifiuti, quella che più è delicata, quella che più prevede interferenze internazionali anche, la tua esperienza insomma è stata importante e stasera forse evocheremo anche qualche figura come dire eroica di questa regione che tu hai conosciuto e di cui potrei parlarci, ma avremo anche un breve filmato con il quale interromperemo il dialogo con i nostri ospiti per spiegare cosa sono le navi dei rifiuti, perché sono una realtà molto triste che appartiene prevalentemente a questa regione, ma non solo, credo che sul percorso dei rifiuti illeciti il nome di Ilari Alpi abbia lasciato una traccia di relazione internazionale, quindi parleremo anche di questo. Speriamo di riuscire a farlo senza annoiarvi, senza complicarvi troppo la vita. L'ultima cosa che voglio dire è che stasera abbiamo tra gli ospiti che sono venuti qui da Napoli e da altre città i genitori di Mario Paciolla, la famiglia di Mario Paciolla che ricorderete è quel ragazzo napoletano che nel 2020 è stato trovato morto in Colombia, era un cooperante, è una persona a cui abbiamo dedicato un festival, noi come festival del cinema e diritti umani di Napoli, ma il comune di Napoli è stato rapidissimo a sostenere la causa di verità e giustizia, c'è un comitato attivo, i genitori di Mario e la sorella sono qui, è una causa aperta che sta entrando nella parte forse più delicata del dibattimento, perché vede praticamente la famiglia di Mario difendere la memoria di Mario contro un colosso, quello delle Nazioni Unite, perché Mario serviva all'ONU quando è stato trovato morto. Quindi è una storia che abbiamo raccontato anche qui l'anno scorso a Riace, continuiamo a raccontarla in tutta Italia, è una storia che sta facendo il giro del nostro paese e vi prego di essere molto attenti a tutte quelle che sono le iniziative di firma, anche di sostegno, perché un po' come la storia di Giulio Reggeni e di altri giovani che sono stati abbandonati dal nostro paese dopo averlo servito e aver svolto dei ruoli anche molto delicati, internazionali. Per questo avremo modo poi di parlarne in seguito. E l'ultima cosa che volevo dirvi, poi abbiamo con noi la rappresentata già in anticipo della giornata di domani che è tutta dedicata la serata alla Palestina, abbiamo con noi Luisa Morgantini che è stata la fondatrice di Assopace Palestina, che dirige, è una persona che ha portato una testimonianza enorme anche l'anno scorso qui, non è soltanto questo il suo merito, qualcuno l'anno scorso mi tirò le orecchie perché avevo parlato brevemente della vita di Luisa, ma Luisa è stata anche fondatrice delle donne in nero, è stata vicepresidente del Parlamento europeo, quindi è stata una sindacalista della FIOM, quindi lo sono stato anch'io molto, FLM perché allora la FIOM era dentro talmeccanici, sì bene. Ma anche pacifista, ma anche pacifista. E anche pacifista, è uno che dice Assopace insomma. E c'è con lei Francesca Albanese che è la referente delle Nazioni Unite per la Palestina ed è una persona che in questo momento avrebbe tante cose da dirci domani sera, spero ci racconterà un po' della sua vicenda in Palestina e delle sue vicissitudini in Italia che sono forse più pericolose di quelle palestinesi. Comunque grazie a tutti voi per essere qui stasera, per dedicarci un po' del vostro tempo. Mi fermo chiudendo su un ricordo molto piccolo, ma per me molto grande. Oggi sono due anni che è morto Gino Strada. Gino Strada era cittadino onorario di Riace, quindi penso che toccherà poi a Mimmo ricordarlo perché insomma quel periodo in cui gli è stata data la cittadinanza era un periodo molto diverso dall'attuale. Però a me piace ricordarlo, è stato nostro ospite anche a Napoli, ma a parte il carattere che tutti conosciamo dell'uomo, le sue enormi capacità e il segno che ha lasciato, anche nel mondo del pacifismo, l'avere disinnescato le mine della Valsella, è un ricordo così, uno dei tanti, per non parlare dei tanti ospedali nel mondo, ma diceva sempre che una delle cose più innaturali dovrebbe essere ridurre la dichiarazione dei diritti umani ad un piccolo libricino che può andare nelle tasche di tutti, anche dei ragazzi. E questo era l'insegnamento di questo grande difensore dei diritti umani che mi piace ricordare. Bene, passo la parola a Memo Lucano che incomincerà a raccontarci un po' della parabola di Riace nel campo appunto dei rifiuti, della gestione dei rifiuti. grazie a tutti per essere presenti e agli ospiti con i quali io ho un rapporto di amicizia ma anche di affetto, simpatia politica. Grazie per essere presenti, proprio a tutte le persone che... è inutile che ricordo uno per uno perché magari mi dimentico e poi... questa è la piazza del villaggio globale. E ecco, Maurizio ha detto, per ricordare Gino Strada, noi in questo luogo abbiamo fatto una diretta con Gino Strada e stavo un po' male e avevamo deciso di dargli la cittadinanza onoraria. L'avevo conosciuto al Palazzo Ducale a Genova in occasione del decennale di Emergency. Ed è nata subito per me una grande empatia, simpatia e avevo accettato subito di diventare cittadino onorario di Riace e abbiamo fatto questo collegamento, è stato bellissimo, la piazza era stracolma e non dimenticherò mai. Penso Gino vive e lotta insieme a noi. villaggio globale, vi voglio dire subito che questi sono i luoghi del mio peculato, paradossalmente, perché tutto quello che è strutturato questo borgo è stato l'epicentro un po' delle attività di accoglienza e di integrazione, laboratori sociali, di artigianato multietnico, fattoria sociale, frantoio, tutto questo è stato considerato come una distrazione di somme. Però c'è un piccolo particolare, il giudice per condannarmi in primo grado a 13 anni e due mesi, distrazione di somme, di fondi per scopi privati. Quella parola privato è proprio un'accusa, non è una prova. Di fatti ecco perché Luigi Ferraioli che l'altra sera, scusate se questa premessa che mi porta subito a quello che è un po' come orientata la mia anima, vi chiedo solo scusa per un poco, poi entro nel merito del tema che sono i rifiuti. Ma Luigi Ferraioli ha detto come mai il giudice non è venuto a Riace e sono da loro 30 chilometri, forse 40. Perché questa condanna sulla base di un'accusa? Penso che dovrebbero essere le prove che portano un giudice a poter condannare. Comunque volevo solo dire questo. la mia questione giudiziaria proprio inizia con arresti domiciliari che poi diventano obbligo di... mi sospendono anche come sindaco perché la legislatura era in corso, non era finita, mancava un anno circa. Ma mi ricordo che dopo l'arresto domiciliare il mio avvocato che per la circostanza io avevo conosciuto, non avevo nessuna intenzione di nominarmi un avvocato. È stato l'avvocato che gli avvocati mi hanno dato, come devo dire, la loro solidarietà per difendermi. Mi ricordo che abbiamo deciso di fare le dichiarazioni spontanee, di andare a parlare con il GIP, quello che aveva fatto le misure cautelari. per due argomenti. Immigrazione clandestina, reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina perché, ve lo dico su due parole, non mi soffermo su questo reato, perché avevo fatto come sindaco un matrimonio tra Nazareno e Stella. Secondo il PM e forse anche il GIP, visto che mi ha confermato le misure cautelari e la sospensione come sindaco, io avevo fatto quel matrimonio con la consapevolezza che Nazareno e Stella non erano sufficientemente innamorati perché volevo raggirare le norme sull'immigrazione e per cui volevo determinare che, ad esempio, Stella avesse la possibilità di avere il permesso di soggiorno bypassando. Il matrimonio era un escamotaggio. Io ho detto che non era nella mia facoltà come sindaco capire se due persone, al di là di quelli che sono gli aspetti burocratici, i documenti che bisogna presentare, non era nelle mie facoltà capire se Nazareno e Stella erano sufficientemente innamorati. L'altro reato che avevo commesso invece, che sono stati i motivi dell'applicazione delle misure cautelari e della sospensione come sindaco, sono stati la turbativa d'asta per quanto riguarda il settore dei rifiuti e questo è l'argomento, quello che io come sindaco ho capito e quello che ho fatto, quello che anche ho subito. Questa turbativa d'asta perché dopo alcuni anni che facevo il sindaco, ogni anno in quel periodo c'era un commissario straordinario per l'emergenza dei rifiuti in Calabria. Quando ci sono i commissari straordinari si va in deroga, spesso si fanno delle cose con la giustificazione che tanto c'è un'emergenza e io avevo capito che intanto non ero contento del servizio dei rifiuti, erano gli anni in cui un po' come veniva, non dico come a Napoli, però tutti i paesi della Locride, quasi tutti, avevamo queste emergenze, soprattutto nel periodo estivo. Io avevo pensato probabilmente perché così è più facile ricattare i comuni, perché siamo presi con l'emergenza, perché i rifiuti, io cominciavo a vivere quasi come un incubo perché i cittadini come riferimento hanno l'amministrazione locale. Un'altra cosa che mi sembrava strana è che quando facciamo la gara d'appalto per determinare qual è la ditta che deve gestire i rifiuti, guarda caso ogni anno era che c'era una sola ditta partecipante e poi quando finiamo di fare queste attività burocratiche mi invitavano, andiamo a prendere qualcosa, erano tutti contenti e soddisfatti ma io no. Primo perché il servizio non proprio era un servizio che non rispondeva affatto a quelli che erano poi, quello che era previsto nella convenzione. Allora ho cercato di capire come ovviare a quello che mi sembrava come delle holding che gestiscono non solo un comune ma tanti comuni e poi mano a mano, come faceva il sindaco, ho avuto la possibilità di conoscere una persona che in quel periodo era assessore al comune di Bottricello, provincia di Catanzaro. Vi sto dicendo le stesse cose che io ho raccontato al GIP, perché quando mi sono presentato, dopo che mi avevano fatto gli arresti domiciliari, lui mi ha detto così, non deve rappresentarmi tutte le questioni legate al progetto di accoglienza sull'immigrazione, lei mi deve solo parlare dei due reati che io le sto contestando, glielo dico nel suo interesse. E ora mi sono ricordato, mentre vi sto parlando, che sono esattamente le stesse cose che io ho detto al GIP. e poi, ecco per ricollegarmi a quello che dicevo prima, ho conosciuto questo ex assessore comune, si chiama Salvatore, di Bottricello, che proveniva dall'Università di Torino ed era un ingegnere ambientale ed aveva la passione così di risolvere tutte le questioni ambientali, soprattutto quelle dei rifiuti. Aveva fatto un libro, da un rifiuto una risorsa. Per me, ho letto quel libro e mi aveva praticamente imparato tante cose. Io così ho fatto il sindaco. Quando sono stato elettrosindaco non so nemmeno la differenza tra una determina e una delibera, non capisco niente. Allora ho imparato da quelli che sanno più di me. Ho cercato continuamente questo tipo di rapporto, senza mai avere la presunzione di sapere le cose, di avere quello... assolutamente. E allora Salvatore dice intanto si coinvolgeva, voleva venire a Riace per aiutarmi. vogliamo risolvere queste questioni dei rifiuti. Come evitare quello che mi sembrava un escamotaggio? Quello sì, perché come mai un'unica ditta partecipante? Da chi viene impedito questo? Allora, ho fatto... che cosa ho fatto? Visto che come sindaco avevo la facoltà di farlo, lo statuto comunale me lo consentiva, di organizzare, di indire una pubblica assemblea nella sala del Consiglio Comunale, di coinvolgere la cittadinanza e mi ricordo che l'avviso l'ho fatto io un pomeriggio, che ero tra l'altro molto amareggiato delle cose che avvengono sui nostri territori, ho fatto questo avviso pubblico e poi ho scritto a chi mi sono rivolto? Mi sono rivolto a due categorie sociali in particolare, disoccupati e rifugiati. E praticamente quel pomeriggio vennero non tante persone, sembravamo, compreso il sindaco, una banda di disperati proprio, le categorie sociali più deboli. Ma anche io mi riconoscevo non come il cittadino, il primo cittadino, ma proprio come uno di loro. Da quel momento è iniziato comunque un percorso, un impegno con la massima determinazione per me. Allora abbiamo questa risorsa, era rappresentata dalle unità lavorative, quindi avevamo pure la possibilità di determinare, di interferire su quella che è la questione più difficile dei nostri territori, che è la mancanza del lavoro. Eravamo in un periodo che ancora non c'era il reddito di cittadinanza, quindi c'era una condizione veramente difficile che poi si risolve semplicemente andando via, facendo rimanere questi luoghi sempre più abbandonati. C'è la rassegnazione. A un certo punto le persone, soprattutto i giovani, si convincono che non c'è alternativa. E' più o meno come quelli che sono in fuga dalle guerre, che non hanno alternative. Bisognava capire come intanto abbiamo creato una piccola speranza per dire facciamo le cooperative sociali. Io stesso ho accompagnato a tutta la questione burocratica, li ho portati, sono andato con loro, sono andato a due cooperative, una si chiama Aquiloni, una si chiama Eco Riace, e poi mi ero interessato come sindaco, tra Riace Superiore e Riace Marina, di fare come un'isola ecologica, perché avevamo in sospeso al Comune un contributo del settore ambiente, della regione Calabria, che poi l'abbiamo concretamente valorizzato facendo l'isola ecologica, prelevando i rifiuti. Per fare tutto questo bisognava per la prima volta, Riace, fare la raccolta porta a porta, eliminare i contenitori stradali che erano causa di accumuli, così di rifiuti, erano l'incubo per me. E quindi ho avuto anche questa sensazione di liberarci, proprio di fare diventare le strade più pulite, Paese dell'accoglienza significa che si deve presentare nel miglior modo possibile, per gli ostri, per tutte le persone, per i viaggiatori, per chi vuole venire, è la condizione fondamentale di una, come devo dire, i luoghi devono essere puliti soprattutto. Nascono queste due cooperative sociali, si tratta poi di capire come bypassare quella gara d'appalto dove siamo socconventi. Io dicevo in quel modo perché è una delle motivazioni più forti proprio che mi hanno indotto poi a creare queste soluzioni, a cercare queste soluzioni, era perché proprio per non favorire le holding, per non favorire tutto un sistema che ho capito come facendo il sindaco, anche il ruolo incerto delle piattaforme con AI che non sono gestite dalla parte pubblica ma dalle parti private e come se mi sembrava che, come devo dire, al vertice della catena, come si usa per la catena alimentare, al vertice della catena c'era qualcosa di losco per parlare chiaro. Come tutto deve avvenire seguendo, e questo spunto l'ho avuto dal fatto che sistematicamente unica partecipante, non è che il bando pubblico o che la stazione unica appaltante risolve il problema degli appalti pubblici, se vogliono le mafie anche da fuori gestiscono, io questo l'ho imparato come sindaco, dicono no perché prima non c'era ancora la stazione unica appaltante, ma se vogliono loro impongono sul territorio, qua mi interessa a me, non ti devi permettere di partecipare, quindi alla fine il nostro è un ruolo, come devo dire, che pensiamo di fare la trasparenza, però non è così perché c'è un controllo che è esterno però che è determinante. alla fine vogliamo capire, ho parlato con il segretario comunale per capire se fare l'affidamento diretto era possibile e si è documentato il segretario. Dice c'è una norma che potrebbe essere per l'occasione potrebbe fare diventare l'atto amministrativo, l'affidamento con delibera di consiglio comunale, un atto legittimo perché siamo sotto soglia comunitaria, perché si trattava di fare un affidamento, abbiamo fatto un progetto, l'abbiamo approvato con l'Aggiunta per la raccolta differenziata porta a porta e eravamo diventati uno dei comuni con più alta percentuale di rifiuti differenziati e praticamente l'affidamento per una cooperativa era di 56 mila euro e un altro di 54 mila euro, queste sono le somme per il comune. Poi dovevamo pagare l'affitto dei container che avevamo messo dove c'era l'isola ecologica a metastrata tra Riace Superiore e Riace Marina e abbiamo istituito l'albo delle cooperative comunali perché avevamo perso un poco di tempo perché l'albo regionale non esiste, l'albo delle cooperative sociali regionali mi hanno contestato questo il GIP che io ho fatto l'affidamento e non ho tenuto conto dell'autorizzazione delle cooperative dell'albo regionali, semplicemente non esiste, poi mi hanno detto ma esiste quello provinciale, ma nemmeno, l'abbiamo istituito l'albo comunale per dare comunque una possibilità a chiunque poteva partecipare, ma doveva essere scritto all'albo delle cooperative sociali comunali, l'abbiamo istituito noi, può darsi che questa è stata qualcosa che non si poteva fare, ma ve lo sto dicendo, vi sto facendo l'analisi come devo dire anche di un reato per il quale sono stato condannato. Alla fine c'è stata anche una certa resistenza da parte, come devo dire, della parte burocratica dello stesso comune, perché tu mi sembrava che non è possibile modificare le cose, tanto in Calabria le cose sono così, non si può, lascia perdere, ma tu vorresti cambiare il mondo, ma tu vorresti, non si può, dobbiamo accettare questo, non mi potevo rassegnare per questo, non mi potevo rassegnare. E praticamente siamo arrivati alla fase di affidamento tramite la delibera del Consiglio Comunale, vi stavo dicendo che la parte burocratica non era entusiasta di quello che avremmo provocato, era un'indicazione anche per tanti paesi della Calabria, per tanti comuni come Riace, ma poi alla fine quello che più mi stava creando degli ostacoli, perché ma come ce l'hai, perché noi per fare tutto questo non avevamo un decreto di contributo economico che veniva dalla Regione o da altri enti oltre il Comune, sono tutte risorse che dobbiamo determinare con il settore di fiuti, si determina, questi sono i costi, queste sono le entrate, con quello dobbiamo fare. E la parte burocratica del Comune mi contestava adesso che non c'è il compattatore, dove riprendiamo i soldi? Vi giuro, mi è venuta l'idea, proprio ascoltando mio papà che era una persona anziana, mi parlava che facevano lo spazzamento con gli asini, sono stato illuminato da questo, perché ho detto io, ma gli asini non bisogna pagare il bollo, non bisogna pagare l'assicurazione, non bisogna pagare il carburante, ed è stata un'intuizione bellissima, perché abbiamo introdotto intanto anche nei borghi rurali quello che è stato il simbolo della riace contadina, siamo stati attentissimi, mi ricordo che qualcuno poteva contestare, sporcano, mai accaduto, semplicemente abbiamo fatto in modo che gli asini venivano alimentati dopo il servizio, è stato bellissimo, è stato anche un rapporto quasi di, io l'ho definito di democrazia ecologica, il rapporto direttamente con i cittadini, a cui veniva spiegato, nella busta rossa, diamo anche le buste, il servizio è stato di alta qualità, se dobbiamo dire, anche sulla differenziazione dei rifiuti, quando portiamo la piattaforma Conai i rifiuti differenziati di riace erano di alta qualità, non c'erano mescolanze tra i rifiuti, praticamente questo ho fatto io, il GIP mi ha ascoltato e mi ha detto, va bene, questo ho fatto signor giudice, e voi mi avete arrestato in pratica, questo è il mio rapporto con i rifiuti, come si fa. Voglio solo dire, vi ringrazio perché mi avete ascoltato, voglio ringraziare Luigi De Magistris, Nuccio Barillà, anche Maurizio Albufolo, tutti voi, ma veramente una parola di affetto per le persone che sono vicine a me, perché tutti questi anni ho sentito la solidarietà, l'affetto, per me è fondamentale, per la motivazione, per resistere, per continuare, questo è il villaggio globale, l'accoglienza, la solidarietà, questo progetto che è stato è stato probabilmente uno dei più importanti, perché come ha detto Ferraioli, questo progetto di accoglienza agli immigrati, che ha cercato di capire il mandante di queste storie, quali sono le vere motivazioni, probabilmente ha detto Ferraioli, perché non è consentito che esiste, che esiste un'alternativa all'egoismo, al razzismo, al fascismo, e invece no, una piccola comunità con tutti i suoi problemi, con tutte le sue difficoltà, ha dimostrato che esiste un'altra possibilità, la dimensione umana, e poi questa è legata anche ad una visione politica, ma si devono fare una ragione, perché uguaglianza, valori sociali, fraternità, fanno parte di una parte politica, e io sono orgoglioso di appartenere a quella parte politica, non mi importa, anche se mi danno l'ergastolo, non vengo meno proprio, non rinuncio a nulla di quello che ho fatto, ma proprio per nulla, devono capire che io non dico queste cose, manca poco adesso, manca poco per la sentenza in appello, ma non è che non voglio avere nessun atteggiamento, che devo avere paura, o che devo essere, o che voglio, io non voglio nulla, non voglio, con orgoglio accetterò qualsiasi cosa, a testa alta, ma quello che ho fatto lo rifarei, senza nessuna esitazione. Allora, buonasera, ovviamente quando Maurizio e Mimmo mi hanno chiamato, ho accettato subito volentieri, ogni volta che Mimmo ha chiamato ci sono stato, anche quando Mimmo non era conosciuto alle moltitudini, non solo italiane, ma anche internazionali, perché ho avuto il privilegio, l'onore e l'onere di lavorare sin da giovanissimo in questa terra, e quindi ho conosciuto il pre-Lucano, il Lucano e il post-Lucano, post-Lucano inteso come amministrazione di Riace, perché lui Lucano sta qua, è lotta e noi siamo vicini a lui, perché ci possa stare un esito completamente diverso dal punto di vista giudiziario. Effettivamente, comincio giusto con una parentesi di questo tipo, per chi ha lavorato in questa terra e ha visto quanto sia difficile arrivare a condanne nei confronti della borghesia mafiosa, di quei livelli così pervasivi di mimetizzazione dell'andrangheta nel cuore dello Stato, quando ho ascoltato la condanna di Mimmo a 13 anni e due mesi, devo dire, io un brivido dietro la schiena l'ho provato, perché per me Mimmo è l'antitesi del reato, in quanto tale, cioè chi conosce Mimmo è l'umanità che si mette al servizio del popolo. Prima di parlare dei rifiuti, consentitemi proprio 20 secondi quanto sia importante fare anche il sindaco che va oltre i propri confini, come ha fatto Mimmo e ho cercato di fare io. E siccome qui ci sono Luisa Morgantini, Francesco Albanese, io sono molto contento di aver dato la cittadinanza onoraria ad Abu Mazen, essere cittadino palestinese o il passaporto onorario palestinese, di aver dato la cittadinanza a Ocalan e aver sostenuto come ambasciatori di pace cioè il popolo sarawi. Quindi io credo che se noi vogliamo un mezzogiorno rivoluzionario incominciamo a battere i confini della nostra visione e stare sempre vicino a chi lotta per l'autodeterminazione dei popoli piccoli o grandi e creare delle comunità. La mia vita di magistrato e di sindaco si è interfacciata con i rifiuti e infatti mi fa anche piacere che oggi a fianco a me ci sia Nuccio Barillà che conobbi tra i primi quando divenni magistrato in questa terra giovanissimo. E devo dire che quando ascolto la storia di Mimmo sui ciucci, gli asini e la raccolta differenziata non sapevo se piangere o ridere Mimmo perché mi sono trovato non poco ostacolato in questa terra quando ho cercato proprio di individuare insieme alla polizia giudiziaria quell'enorme business che sta dietro i rifiuti. Mimmo in un passaggio ha detto una cosa importante. Dice io non so se sono stato un accademico della Crusca nell'affidare amministrativamente le cose con la sua onesta intellettuale però so per certo che ho scardinato il controllo dell'andrangheta sui rifiuti attraverso il monopolio di unica ditta che si presentava da sola e vinceva sempre. Qua si sono intrecciate quando ho iniziato a lavorare tre aspetti sui rifiuti. Uno che è quello dello smaltimento, della raccolta e dello smaltimento, dove io mi trovai ad occupare pur lavorando a Catanzaro, non solo di Catanzaro, perché Catanzaro essendo la sede capoluogo di regione, come impattavi in qualche indagine in cui centrava la regione, tu ti occupavi di tutta la Calabria. Quindi noi riuscimmo a individuare come le famiglie di indrangheta controllavano in maniera assolutamente dettagliata e precisa tutta la filiera che andava dalla raccolta del rifiuto, come ha raccontato Mimmo, sino al conferimento negli impianti. E questo era un primo filone che poi ha portato a dei processi e delle condanne. Ovviamente io vado per titoli perché altrimenti non potrei esaurire nulla in pochi minuti nel tempo che abbiamo a disposizione. Poi ci siamo trovati di fronte a un altro tema che poi affronterò successivamente quando ritorno in Calabria e mi occupo di un'altra inchiesta, che è come funzionavano gli impianti di smaltimento e più grandi in Calabria. In particolare c'era quello di Rossano, dove venivano conferiti i rifiuti dell'area nord della Calabria, quello di Alli in provincia di Catanzaro e quello di San Batello in provincia di Reggio Calabria. E anche qui ricostruimmo non tanto la filiera degli appalti e dei subappalti controllati dall'indrangheta, ma qui si andava a un livello diverso che era quello degli appalti con le grandi ditte per come venivano affidati i lavori per la costruzione, l'ammodernamento e il funzionamento dei grandi impianti. Poi c'era l'altro filone che io tratterò in parte perché immagino che Nuccio tratterà un'altra parte che è quello dei rifiuti tossico-nocivi, dei veleni, delle terre di fuochi del nostro paese, che non è solo la terra dei fuochi tra Caserta e Napoli, non è solo la Calabria, ma vi assicuro che si svane il nord Italia, se ne parla meno, ma tra il Pafass in Veneto e altre cose l'Italia da questo punto di vista è stata attraversata da condotte criminali che hanno perfettamente unito il nostro paese. Ma ricordo perfettamente in particolare un filone d'indagine molto inquietante che era stato insabbiato originariamente alla procura di Crotone. Insabbiato poi si scoprì anche perché una diretta collaboratrice del procuratore era una persona della famiglia dell'impresa che gestiva tutto lo smaltimento dei rifiuti in Crotone, una famiglia molto nota ancora adesso in Calabria, fu insabbiata. L'origine dell'indagine era questa. Alcuni medici molto scrupolosi avevano denunciato che in diverse zone di Crotone e del Crotonese c'era un aumento vertiginoso delle morti di tumore dei bambini intorno agli 8, 10, 12 anni. Mi vennero a portare questo fascicolo siccome vedevano che io mi occupavo dei rifiuti anche con la collaborazione di lega ambiente, associazioni e tanti altri, provarono questi qua, associazioni e medici, mi vennero a dire dottore ma non è che la potete riaprire questa indagine? Io effettivamente acquisì questo fascicolo e per farvela breve scoprimmo che l'aumento dei tumori era dovuto dal fatto che l'andrangheta insieme a politici collusi, a funzionari infedeli, smaltiva l'amianto nella costruzione delle scuole. E scavando scavando in quella bomba ecologica che continua ad essere nonostante governi regionali di diverso colore politico che si sono succeduti nel corso degli anni, che è l'area ex industriale, in parte ancora industriale di Crotone, che per chi conosce la Calabria è quella dell'Apertuso, la Sud, che come, diciamo, Little Cedar di Napoli, o l'Ilva di Taranto. E là scoprimmo, poi sono sempre stesse le ditte, che ricostruendo lo smaltimento che Eni risorse, quindi Eni è la più grande multinazionale di cui si parla spesso, noi scoprimmo che 30.000 tonnellate di ferriti di zinco, 30.000 tonnellate di ferriti di zinco, venivano interrate tra Rossano, Castrovillari, Cassano e Cerchiara di Calabria, dove si producevano le migliori clementine d'Italia. Il terreno è stato bonificato grazie alla mia inchiesta, alla nostra inchiesta, quindi ci possiamo rassicurare per quello che è il futuro. 30.000 tonnellate di ferriti di zinco. E nell'ambito di quell'indagine, andando a scavare poi nel settore mazzette, che non mancano mai, arrestammo anche l'assessore regionale all'ambiente, preso praticamente con una intercettazione videoambientale, mentre prendeva la mazzetta, quindi era una prova provata. Poi, siccome in Calabria ci sono poi avvocati anche molto bravi, lui è riuscito con un cavillo diciamo formale, quando io poi me ne andai nella Calabria, è stato probabilmente assolto. Molti di questi avvocati poi recentemente sono diventati anche famosi, magari uno lo toccheremo da qui a breve. E devo dare atto che all'epoca il Parlamento fece la sua parte, perché c'era un presidente della commissione bicamelare del ciclo dei rifiuti che era un verde vero, adesso ci sono pure verdi un po' sbiaditi, quello era un verde veramente verde, che era Massimo Scalia. E la cosa bella, io non tenivo manco 30 anni, se voi andate e pubblica la relazione, se ve la volete leggere sul sito del Parlamento, tutto il capitolo, praticamente eco-mafie in Calabria, era tutto incentrato sull'indagine della procura di Catanzaro, praticamente di un ragazzo, come ero io, di 27, 28, 29 anni. E io mi permisi anche, a domanda del presidente, ma lei ci può dare qualche indicazione, secondo lei la normativa, parliamo del 96, 97, secondo lei la normativa è adeguata per contrastare le eco-mafie? Io dissi assolutamente no, perché noi dobbiamo utilizzare una norma del codice penale, l'articolo 434, che era stato pensato per altro, quindi mi permisi anche, tra virgolette, di suggerire quella che poteva essere de jure condendo una possibile ipotesi di riforma legislativa e così, devo dire, fu fatto. Quindi quell'esperienza fatta da giovanissimo, con dei bravi carabinieri e finanzieri, riuscimmo anche con l'aiuto di una parte attiva della militanza sociale del popolo calabrese a comunque delineare uno squarcio, su questo mi fermo, poi magari riprenderai tu alcune cose. Poi tratto gli altri due passaggi, poi si apre una parentesi, io vado a Napoli, poi ritorno in Calabria e mi trovo, e mi riallaccio a Mimmo, tra le varie cose a un certo punto a indagare sulla struttura emergenziale commissariale in Calabria, che doveva occuparsi in particolare di rifiuti, depurazione delle acque e in parte collegata anche l'acqua. Questa mia esperienza giudiziaria poi mi è stata utilissima per affrontare l'ultimo capitolo che affronterò dopo quello di Napoli. Perché io che cosa ho capito, facendo il magistrato e il sindaco e oggi attualissima, che il potere utilizza lo stato di emergenza, lo stato di eccezione e i poteri speciali del commissariamento, non per avere poteri speciali perché se c'è un'emergenza abbiamo poteri speciali per superare l'emergenza. No, utilizzano i poteri speciali per avere mani libere, per avere mani in pasta e per preparare all'infinito l'emergenza. E in quella struttura commissariale, presieduta da un alto magistrato, poi diventato presidente della Regione, Giuseppe Chiaravalloti, che è stato forse il più potente magistrato calabrese per quello che io ho avuto come cognizione nella conoscenza della Calabria, procuratore generale a Reggio Calabria, vice procuratore generale a Catanzaro, poi presidente della Regione per Forza Italia, diventa il presidente dell'ufficio commissariale, lottizzato dai vari partiti con dentro, devo dire, consulenti, persone molto legate anche a chi doveva controllare. Perché un'altra caratteristica del sistema è quella di creare da una parte le società miste pubblico-private e dall'altra le gestioni emergenziali e commissariali per avere una pletora di collaboratori, consulenti, eccetera, che sono quella filiera dei colletti bianchi e in alcuni casi della borghesia mafiosa di persone strettamente collegate agli apparati di controllo. Per capirci, quando andai a vedere con le misure cautelari, le misure camerali, tutte le persone che facevano parte delle società miste che gestivano tra l'altro le normità di denaro destinate all'ambiente, eccetera, trovavi. La sorella del magistrato, il nipote del generale, il figlio del direttore del Dipartimento della Regione. Quindi una confusione totale tra controllori e controllati. Vi do una cifra. Le indagini che mi furono scippate ricostruirono 15 miliardi di euro tra il 2003 e il 2008. C'è un PNRR di adesso, una manovra finanziaria per farvi capire. Se avessero voluto dare per avventura i 15 miliardi divisi per ogni cittadino calabrese che su 1.800.000 abitanti tu trasformavi i calabresi in Svizzeri. Quelli servivano per creare ospedali, depurazione delle acque, rifiuti, acqua. Io ne parlavo prima con Mimmo, continuo ad avere il primato, mi dà orgoglio e amarezza come sindaco di una grande città, l'unica grande città, senza nessuna regione, nessun Parlamento che ha fatto l'acqua pubblica rispettando il referendum del 2011. E qua in Calabria, dove c'è una società per azioni che si chiama Sorical, che gestisce da anni l'acqua, ci stanno le più grandi fonti d'acqua d'Italia e il 20-25-30% delle calabrese e dei calabresi a livello di abitazioni civiche, agricoltori e industrie non hanno l'acqua. E queste sono tutte aree saccheggiate da un rapporto tra poteri pubblici e poteri privati che poche percentuali di persone controllano tutto. È qua che poi sono saltato e arrivo a concludere questa parte perché come siamo arrivati nel cuore del sistema? Tangenti, consulenze, grandi truffe, denari che venivano sottratti agli obiettivi, praticamente sono diventati personaggi molto influenti che erano tra l'altro molto legati a quelli che mi dovevano coprire le spalle, cioè i miei capi, che invece di coprirmi le spalle mi hanno accoltellato. Ebbi il torto anche per violazione della legge Anselmi perché il collante poi soprattutto sui rifiuti, ma non solo, sono l'elogio occulto e le massonerie deviate, che era coinvolto in questa indagine sui rifiuti, sull'ambiente. Poi sono passato 14 anni ma non mi pare che nel frattempo i depuratori li hanno sistemati, gli ospedali li hanno sistemati, commissariati erano e commissariati rimangono, ma ho avuto il torto di aver dovuto indagare questo avvocato che era molto influente, era il coordinatore regionale di Forza Italia, senatore deputato, era anche talmente bravo che era l'avvocato di quasi tutti i boss dell'Andrangheta, talmente bravo di essere avvocato di quasi tutti i colletti bianchi, talmente bravo di essere anche amico intimo e avvocato del mio procuratore. E quando l'ho toccato il procuratore mi ha tolto l'indagine e il Consiglio Superiore della Magistratura mi ha trasferito perché io non avevo avvisato il procuratore che stavo facendo un'indagine sul suo amico, dimenticando che pochi mesi prima questo avvocato aveva assunto il figlio del procuratore nella sua società e il procuratore aveva prestato fidei uscione. Quando si toccano i figli delle eco-mafie si tocca un business enorme, perché là i denari ci sono stati per forza, perché i rifiuti sono rifiuti, come ha detto Mimmo, bisogna pulire le strade e quindi i soldi ci stanno. E veniamo all'ultimo aspetto che ci unisce anche come amministratori. Decido nella follia di candidarmi a sindaco di Napoli, usando una frase di Don Peppino Diana, parroco di Casal di Principe, nella lettera ai fedeli poco prima di essere ucciso per amore della mia terra, perché a Napoli i rifiuti arrivavano all'altezza del Lampione, nel centro, e in periferia c'erano centinaia di metri di discariche. Quindi io decido di candidarmi perché non riuscivo più, stando al Parlamento europeo, stavo bene, mi stavo disintossicando dei veleni istituzionali e dei veleni che avevo subito nel mio lavoro di magistrato, ma non ce la facevo più che ogni persona che incontravo, di dove sei, di Napoli, a Napoli, rifiuti e Gomorra, rifiuti e Gomorra, non si poteva uscire per strada, i napoletani stavano col capochino che non si poteva andare a mangiare una pizza, cioè, boh, è facile dire adesso, che bella Napoli, viva Napoli, lo scudetto, il murales di Maradona, i turisti, i quartieri spagnoli, la sanità. Io appartengo a quella generazione che considera l'amore grande non nel guardare le cose belle, l'amore grande è quando ti prendi carico di sofferenze, di fragilità e di ferite e cerchi di dare una mano perché ami talmente tanto, e là è stato un gesto d'amore. E la prima cosa che mi sono trovato davanti sono i rifiuti. Beh, io non è che come Mimmo ha detto siamo degli esperti, cioè io non è che ero uno scienziato, avevo esperienze, sono un lettore, ho studiato, leggevo libri, analisi, ascoltavo gli esperti, ma soprattutto conoscevo il sistema criminale. Perché c'era l'emergenza rifiuti a Napoli? Come mai non la risolvevano? Per quello che vi ho detto prima, perché accadeva che la politica aveva mani totalmente libere. Poi per coincidenza, e lo sottolineo coincidenza, le ditte erano vicine alla mafia, che a Napoli si chiama Camorra. E secondo voi, vi faccio una domanda un po' retorica. Queste persone hanno interesse a interrompere l'emergenza? E' certo che no. E' un business enorme. E io sono entrato a gamba tesa. Mi sono fatto le nottate con i lavoratori, con gli autocompattatori, ed a media 60 anni, perché lo Stato utilizza il criterio lasciamoli senza viveri, senza soldi, senza munizione, così dobbiamo costringere in tutta Italia a privatizzare i servizi. Io sono entrato a gamba tesa. Sono andato con loro a raccogliere i rifiuti. Le prime notti ho detto, se noi non togliamo i rifiuti da terra, tutto quello che ci siamo detti in campagna elettorale, la cultura, il turismo, il riscatto, la bellezza, non le potremmo mai attuare. Perché come fai a parlare di cultura se c'hai rifiuti al primo piano che non puoi nemmeno camminare? E ho tolto tutti i subappalti, le esternalizzazioni, affidamenti diretti, le privatizzazioni. Ho detto loro che avrei fatto una grande azienda pubblica della raccolta, dello smaltimento e del ciclo dei rifiuti ed è iniziato un processo che in poche settimane ci ha portato a togliere i rifiuti e come ha detto anche Mimmo nel suo caso. Ovviamente non possiamo equiparare Riace e Napoli, sono con te. Lui ha fatto un esperimento straordinario di creatività, di bellezza, di compatibilità tra esseri viventi, esseri umani, ambiente. Io invece sono andato controcorrente là rispetto al pensiero unico bisogna privatizzare tutto. E il sistema ha reagito in una mania violentissima. Perché il sistema, come ha detto Mimmo, agisce in maniera tale che non deve mai passare l'idea che c'è un'alternativa al sistema. Quindi hanno usato il criterio embargo, sanzioni, norme ad hoc per Napoli, togliamo gli soldi, costringiamoli a... non potevamo assumere, non potevamo fare niente, li dobbiamo costringere a privatizzare. E se non lo fa, siccome li lasciamo senza viveri, senza soldi, senza niente, il popolo gli si rivolterà contro. Quindi una logica infame dal punto di vista istituzionale. E invece rispetto alla magistratura, dove io sono stato isolato, colpito e affondato, perché il magistrato non può unirsi al popolo e dire popolo, guardate che questi mi stanno facendo fuori. Io sapevo che il popolo aveva capito, perché basta che andavo dal giornalaio, dal salumiere, dal macellaio, guardavo in faccia e capivano che io non ero Sherlock Holmes, semplicemente ero una persona che insieme ad altri stavamo facendo venire a galla la milma che conoscevano tutti quanti. Da sindaco, e qua saluto con affetto i miei amici Paciolla, sanno che nell'esperienza napoletana il segreto è stato non perdere la connessione con la gente. Perché ho capito che avendo tutti i grandi partiti contro, tutti i grandi giornali contro, i governi nazionali, i governi regionali, le camorri, i salotti, i cosiddetti intellettuali della città, quelli seduti su comode poltrone che si fanno il posticino del giorno o l'editoriale e pensano che hanno fatto la rivoluzione. Questa roba ha funzionato. Allora se uno vuole dare anche un messaggio politico alla fine di questo intervento, quello che ho imparato è molto importante non lasciare sole le persone e creare una connessione umana, sentimentale, politica, sociale, come la vogliamo chiamare, tra il popolo che riprenda a fare il popolo. E basta con quelle frasi, chi te lo fa fare, tanto non cambia mai nulla, tanto sono tutti uguali, tanto rubano alla stessa maniera. No. C'è gente che non si fa comprare. Si paga un prezzo a stare in questo modo fuori dal sistema, molta gente ha un prezzo, ma come diceva Mimmo non c'è prezzo a non avere prezzo, perché si è liberi. E quando si crea la connessione tra masse popolari e rappresentanti protempore delle istituzioni a qualsiasi livello, ma io dico soprattutto i livelli, quelli che stanno più vicino alla gente, quelli orizzontali, le amministrazioni, questo connubio, quando chi rappresenta il popolo non tradisce e ha valori alternativi rispetto al denaro, il turbocapitalismo, il consumismo universale, il neoliberismo, e c'ha i valori fondati su cose semplici che non si comprano al mercato, l'onestà, l'autonomia, la libertà, l'indipendenza, la competenza, la responsabilità, il coraggio, la passione, l'amore e la follia, questo connubio diventa vincente. Quindi, secondo me, noi dobbiamo un poco di più agitarci. E concludo. Perché se noi siamo in silenzio, se siamo indifferenti, se stiamo a vedere chi vince, se siamo complici, il cambiamento dall'alto, questo l'ho imparato stando in prima linea, non ci sarà mai. Del resto, questa istigazione a sognare e questa istigazione a cambiare non è solo un pensiero che può essere di noi relatori qua, di alcuni di voi, di tutti quelli che stiamo qua, ma è un imperativo categorico politico che è scolpito, e con questo concludo, nell'articolo 3 secondo comma della Costituzione. Guardate, c'è stato Ferraioli, ricordami, Ferraioli è uno dei più grandi maestri del diritto e lui ha scritto delle pagine encomiabili sull'articolo 3 secondo comma, che per me è un inno alla ribellione pacifica non violenta culturale alla rivoluzione. Perché? I costituenti che hanno visto sulla loro pelle la violenza del fascismo attraverso la legge, attraverso la legge, le leggi razziali, i provvedimenti, là c'erano leggi, capi di Stato, capi di governo, i magistrati facevano parte del Tribunale della Razzi, i professori universitari, erano tutti iscritti al fascismo. Quindi loro, la Costituzione non parla ad oggi, la Costituzione parla alle altre generazioni, perciò è Costituzione. Loro, nella loro testa, siccome hanno visto questo abominio col diritto, con la legge, con la violenza della legalità formale, parlando alle future generazioni, ipotizzando che potesse accadere un giorno che i principi fondamentali, fratellanza, libertà, uguaglianza, giustizia sociale, giustizia climatica, giustizia economica, cioè i primi 12 articoli della Costituzione non venissero attuati, ci ha dato l'arma. Non ci ha dato il diritto di esprimerci, perché il diritto ce lo dà l'articolo 21, che è la libertà di esprimere le proprie omignioni. All'articolo 3 si è scritto che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economica e sociale che impedendo di fatto uguaglianza e libertà ostacolano lo sviluppo della persona umana e la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del Paese. Mi concentrerei sulle prime frasi. Compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. Quindi, se oggi ci sono ostacoli di ordine economica e sociale, possiamo negarlo? Possiamo dire che abbiamo realizzato lo sviluppo della persona umana? Basta guardare a che livello stiamo sul piano climatico per rendercene conto? E allora noi abbiamo il diritto di esprimere un movimento al diverso. No, noi abbiamo il compito, che è ancora più del dovere. È compito. Repubblica, e Repubblica siamo anche noi, altrimenti avrebbe detto è dovere delle istituzioni. No, usano il termine Repubblica. Rimuovere. Rimuovere non è un termine giuridico. Rimuovere è un termine militante. Rimuovere gli ostacoli significa pigliare sto stascrivani e rimuoverla se è un ostacolo. E la Costituzione due volte usa termini non giuridici forti per la guerra e per gli ostacoli. Ripudiare e rimuovere. Perché loro l'hanno visto che cos'è la violenza istituzionale. Ecco, la constatazione amara nel vedere Mimmo e nel pensare anche a quello che mi è capitato, che io ero venuto qua da giovane magistrato preparato a contrastare i proiettili dell'andrangheta, capretti sgozzati, lettere minatori, che le ho avute. Ma mi hanno fatto meno impressione del livello di indrangheta che ho visto nel palazzo in cui mi dovevo sentire protetto. Allora il fatto che la mafia non spara non è perché meno forte. Ha scelto di mimetizzarsi. E se si mimetizza usa la legalità formale, la carta da bollo e i proiettili istituzionali. Agitarsi è un dovere. Se non lo facciamo dall'alto non cambierà mai nulla. Dal basso, l'ho visto a Napoli, si può fare. Quindi voglio provare nel mio piccolo a estigare ognuno di noi a trovare la volontà, l'entusiasmo, le emozioni di lottare. Perché se lottiamo ce la possiamo fare, se siamo fermi, sicuramente non vinceremo. Grazie. Come vi dicevo non c'è bisogno di moderare alcun che perché il racconto di queste due esperienze istituzionali in zone diverse, ma comunque affini, zone del nostro sud, ci ha riportato un pezzo di storia recente del nostro paese che introduce facilmente ad alcune conclusioni su quello che stiamo vivendo in questi giorni. Ma io volevo chiedere adesso a Annuccio che doveva intervenire nella terza parte finale, dopo il film, di regalarci qualche osservazione sulle cose che ci hanno detto i due sindaci. Perché credo che tu hai vissuto altrettanto questo periodo. Dal tuo osservatorio di legambiente, di eco-mafia e tutto il resto, insomma, hai scritto e hai prodotto molto. E quindi forse qualche contrapunto, se è stato chiamato anche in causa, ti è dovuto. Sì, intanto saluto tutti, ringrazio. Per una coincidenza particolare, i rifiuti sono molto nel rapporto che si è costruito con ciascuna delle persone che sono sedute qui vicino al tavolo. Insomma, con Luigi De Magistri si ve l'ha già raccontato in un momento particolare in cui come legambiente, come associazioni, spingevamo perché in Calabria si facesse verità e giustizia sulle questioni delle eco-mafie e su tante cose assurde che accadevano. Abbiamo trovato come punti di riferimento, come credibili che ci hanno creduto, che hanno investito, perché guardate, uno dei problemi riporta a quello che diceva Luigi, si fa questo per amore. Ma per amore bisogna dire la verità. Non si è calabresi, non si è meridionali. Se si nasconde la polvere sotto il tappeto, anche se questa polvere, soprattutto se questa polvere è polvere radiattiva, come diremo nella seconda parte, si è calabresi, si è cittadini, si è coraggiosi. Se si vedono delle cose si denunciano, se ci vedono situazioni, intrallazzi e si ha il coraggio di affrontarlo e lo si fa per amore. La bellezza potrà salvare la Calabria, riprendo una cosa di Dostoievski. La bellezza salverà il mondo, la bellezza salverà la Calabria, ma perché la bellezza possa salvare la Calabria, possa salvare il mondo, bisogna difendere e in tutti i modi e valorizzarla questa bellezza. Per farlo bisogna andare contro gli ecocriminali, coloro che fanno delle cose che non vanno nella direzione giusta. Anch'io legherò qualche breve spunto a quella storia di storie che ci invita, diciamo che è organizzato a camminare, per mare e per terra storie di rifiuti e di veleni. Però posso dire una impressione, ma perché? Di fronte allo scenario che lui ha descritto, che io proverò anche a rafforzare sullo stato pietoso, sul peso che hanno le comafie in regioni non solo come il Mezzogiorno, in Italia, la questione di Riace, la questione degli asinelli, cosa c'entra con questo? C'entra molto, perché si lega al filo che secondo me è molto forte, uno dei motivi per cui Riace ha dato fastidio, perché è una anomalia rispetto al sistema complessivo. Anomalia della gestione di tanti servizi, anomalia su tante cose, ma questo dei rifiuti, questo degli asinelli è come se fosse una provocazione di fronte agli interessi, di fronte a queste cose. Ecco perché disturba. È una cosa che nel percorso del giudizio è stato già ridimensionato, è una cosa che persino i rappresentanti della provincia e gli altri sono venuti a testimoniare hanno dimostrato come era del tutto regolare, non hai sbagliato niente, era del tutto regolare. Tu potevi, anzi è stato un'intuizione di fronte alla carenza complessiva, istituire un metodo che poi andava a favorire le persone più piccole, anche pensando a chi poi ha gestito questo servizio. Io ho avuto il privilegio, il piacere, l'onore, il primo ottobre 2017, di partecipare alla campagna che poi apriva ufficialmente l'iniziativa della raccolta differenziata sugli asini. Fu una giornata bellissima, una giornata che legheva la tradizione alla modernità e fu anche un segnale a chi, penso a quelli del commissariamento, che avevano piegato un progetto di intervento sui rifiuti schiacciato solo sulle grandi aree urbane, che non tenevano conto che la Calabria ha un'anomalia che è quella di tanti piccoli paesi, di tante cose, non si è capito che invece un piano va adattato alle necessità del territorio. Già tra Calabria e Campania c'è una differenza fortissima. La Campania ha grandi concentramenti in alcune aree molto forti, non sono molti i paesi, diciamo, sono tantissimi i paesi al di sopra dei 25 mila abitanti, mentre la Calabria è fatta di tanti paesi e tante cose di questo genere. E questo, abituati a spingere e non a respingere, legava la questione, diciamo, della raccolta differenziata, ma a me interessa anche l'aspetto umano. Daniel e poi Biagio. Io ho visto piangere Biagio quando hanno arrestato Biagio era un cittadino marginale, considerato così da poco. Una volta gli è stato affidato questo servizio, quello di pulire gli asini, quello di andare a seguire questa cosa. E poi Daniel, un ragazzo straordinario. E poi tutto il contorno, davvero, qui si stava costruendo qualcosa che andava oltre il servizio reso ai cittadini, che peraltro era eccellente. Per fare i contenitori, credo sia andato a Crotone, avete fatto delle cose importanti, eccetera, ma proprio l'umanità. Il rapporto con i Rom per comprare gli asini. Il rapporto con i Rom per comprare gli asini, perché i Rom sono espertissimi per gli asini, perché quando c'è la festa, qui la festa dei Rom si svolge, e tu lo puoi dire meglio, nella città di Reace, e veramente sono esperti anche nelle fiere, nelle cose di questo genere. Io credo che bisogna guardare con gli occhi degli ultimi queste cose. Gli occhi di coloro che un sistema terribile che frequenta gli intrecci le cose esclude. E questa stessa sensazione, io per chiamare in causa anche lui, me l'ha fatta provare, io lo ringrazio. Era il 9-12 del 2013. Tra tante date, tra tante cose che ho fatto, questa data mi rimane il cinema dei diritti, lì a Napoli, delle cose. Mi fu chiesto di andare a fare un'esperienza che per me fu traumatica, nella masseria del Pozzo, dove c'era il crimine nascosto. E io cercai di vederlo, e lo toccai con mano questo crimine, a Giuliano di Napoli, accanto a una discarica, una comunità, molti Rom, forse esclusivamente Rom, ma moltissimi Rom, costruiti, proprio messi lì come se fossero in una sorta di carcere umano, una cosa incredibile, in questo scenario di una discarica. Non si risolvevano i problemi dei rifiuti in quel paese, non si riusciva a dare delle cose, però tutto andava ad essere lasciato in questa cosa. E io ho visto queste bambine, questi bambini Rom bellissimi, con degli occhi, tutto con delle piaghe, delle piaghe nel corpo, delle cose che veramente ti fanno capire come poi è una cosa che riguarda l'ingiustizia. I veleni calabresi, ci sono tante storie, ci sono tante cose, anche in Calabria, come in Campania la mondezza era oro per i criminali, si era capito benissimo che rendeva di più e rischiavi di meno perché le leggi non erano adeguati a trattare i grandi traffici o è anche la gestione del servizio ordinario, te la capavi meglio come avveniva in altre parti del paese. Ci sono tante cose, tante storie. Sicuramente quelle che ha raccontato De Magistris sono fondamentali. Crotone, la città di Milone, la città di Pitagora, che era diventato il regno di Rifiutopoli. Lo denunciamo in una cosa. Andando lì a Crotone c'è uno spaccato vero, al di là della ferite di zinco, di tutte quelle cose che sono uno dei veleni più diffusi in Calabria. Là a Crotone c'era un sistema, il sistema Vrenna. Lui non ha fatto il nome, ma è quello di chi dominava privato questo settore dei rifiuti che, per carità, specializzato con tante discariche, a Gimmaglione, eccetera, avevano costruito una rete, 12 discariche attorno alla città, mentre i rifiuti della Montedison, della Pertiusola li portavano da fuori e cose di questo genere. Parlare di quali sono le principali anomalie, le principali cose, potrei fare un elenco lunghissimo di episodi, di cose che abbiamo incontrato. Io le voglio fare due in particolare, proprio che rapporta questa cosa. Il traffico dei rifiuti è estero Italia, nord-sud, ma è anche sud-sud. Io penso, per esempio, allo scandalo che è stato fatto quando si è scoperto che, diciamo, le scorie della centrale a carbone San Federico II di Brindisi venivano scaricati nella Calabria. Venivano scaricati in diverse cose. Ci sono state delle operazioni, ci sono state delle denunce precise. Un'operazione Leocopetra, un processo incredibile, ha fatto scoprire che tantissimi di questi rifiuti, centomila tonnellate di rifiuti, venivano scaricati in una zona qui, vicino proprio Motto San Giovanni, Lazzaro, uno dei luoghi, peraltro, protetto, di grandissimo valore ambientale, perché c'era il sistema del giro bolla. Poi è difficile spiegarlo. Venivano declassificati, veniva cambiato, si diceva che servivano per realizzare l'atterizia, invece poi venivano immessi nel territorio. E questa è una cosa. Quindi, dietro di questo c'erano interessi. Dal processo sono uscite responsabilità molto precise dell'Enel, responsabilità del genere. La stessa cosa era avvenuta, lo voglio sottolineare, in un luogo che si chiama San Calogero, proprio nel Vibonese. Qui erano 130.000 metri quadrati di scarti provenienti sempre dalla stessa centrale, che venivano scaricati in un luogo, vicino a una fornace, vicino a una cosa. Perché tra i tanti dati segnalo questo? Perché questa discarica, in una discarica, in una... adesso non ricordo come si chiama questa cosa, si chiamava Fornace Tranquilla. Pensate un po'. In questa cosa, praticamente vennero scaricate queste cose, sono stati condannati, ed è per una sorta di paradosso, che però la dice lunga, è lo stesso luogo dove il 2 giugno del 2018 è stato ucciso con un colpo di fucile alla testa un giovane migrante di 29 anni, del Mali, Sacò Sumaila, che era andato lì, che era nella baraccopoli di Rosarno, era andato lì, in questo non luogo, in questo luogo sperduto, a trovare qualche lamiera per rafforzare il suo posto dove dormiva, eccetera. E questo era un ragazzo impegnato per i diritti dei migranti, sindacalista dell'USB, e quindi, come dire, è come se anche lui, rifiuto in mezzo ai rifiuti, espulso da ogni cosa come forse si doveva. Tutta la Calabria ha avuto questa situazione. Si è parlato della situazione del commissariamento. Pensate, nella regione Calabria il commissariamento è durato 16 anni, un tempo infinito, un tempo lunghissimo. Sono stati spesi una montagna di soldi, una montagna di soldi, 2 miliardi di euro, più quelli spesi nella raccolta differenziata, senza realizzare gli impianti, con una gestione assolutamente fallimentare, opaca, con scandali continui che però non hanno risolto né la situazione dell'impiantistica, né la situazione dei termini della raccolta differenziata, e davanti a una realtà, società silente, ribellarsi in quella cosa, chiedere giustizia, chiedere che venissero fatte le cose, se sembrava voler disturbare i manevratori o fare cose di questo genere. Sono passati tanti anni. Oggi la raccolta differenziata in Calabria, anche ancora siamo al penultimo posto in Italia, si raggiunge a fatica il 53% rispetto a quelli che sono i termini minimi europei del 55%, e poi con situazioni incredibili dappertutto. Insomma, siamo in questo contesto in cui le discariche orfane, che sono le discariche di cui non si sa, che imbrattano luoghi meravigliosi delle nostre coste, del nostro mare, della nostra montagna, e creano situazioni incredibili di fronte a questa cosa, che è abnorme, con dappertutto difficoltà, le discariche ancora aperte, non funziona, l'impiantistica che non viene fatta, ecco, Riace diventa non l'esempio da seguire, non una cosa a cui applaudire, ma diventa, come dire, una colpa che bisogna nascondere, togliere, non è possibile, non ne parliamo, non facciamo di questo genere. Solo in questo io credo ci sia questa correlazione increntissima. Parleremo dopo, e finisco, della questione delle navi dei veleni, delle navi a perdere. Parleremo di quello che è accaduto con la Rosso, eccetera. Io ricordo, voglio ricordare una manifestazione, una manifestazione importante che è stata fatta a Damantea, proprio in quella situazione, il 24 ottobre del 2009, Damantea, dove certo si chiedeva verità e giustizia rispetto alla questione delle navi dei veleni, c'era quella nave ritrovata, era la Kunski, poi non era la Kunski, eccetera, eccetera. Ma soprattutto, la cosa incredibile che da tutta la regione ci fu come un moto di ribellione, non accade spesso in Calabria, non accade in modo così forte, così collettivo. 35.000 persone, 35.000 persone che hanno sfilato per le vie di Damantea e venivano da tutte le parti con dei cartelli in cui era rappresentato in modo proprio immediato, proprio veniva rappresentata la geografia dei veleni della Calabria, altro che storie, tutte le varie realtà di ogni parte, eccetera, e mi colpì molto in quell'occasione, e chiudo su questo, un cartello, era anche uno striscione, portato avanti, credo, dagli universitari dell'Università di Rende che avevano portato, in cui c'era scritto Calabria, bella da morire. E in quella frase, Calabria, bella da morire, c'erano un doppio significato. C'era la denuncia dei veleni che c'erano, ma c'era anche questa aspirazione forte di lotta, di movimento, perché questa terra così depreciata, questi luoghi così oltraggiati, potesse diventare una Calabria bella da vivere. Io credo che su queste cose va giocato molto lo stato d'animo, va giocato molto il senso del nostro impegno contro i negazionisti, contro quelli che dicono non parliamo male, se però voi fate l'intervista al telegiornale e denunciate questa cosa, ma poi non vengono i turisti, questa favola che viene raccontata, non fate l'interesse giusto della Calabria. Per cui paradossalmente chi denuncia che è messo in difficoltà e che noi invece, no, invece bisogna lottare per cambiare, perché l'amore per la propria terra si dimostra soltanto denunciando e cercando di ottenere risultati, sia che sei magistrato, sia che tu sia sindaco, sia che sei ambientalista o che sei organizzatore di festival bellissimi. Io devo ringraziare pubblicamente Nuccio perché mi ha ricordato una data e una cosa che non posso tacere, questa storia della masseria del pozzo e della terra dei fuochi. È una storia napoletana, ma è una storia tutta nostra, tutta meridionale, rientra perfettamente nel discorso di stasera. Non volevo parlarne, non ne parlerò perché c'è il film che aspetta. È il film, rivedremo le immagini di Amantea, della manifestazione di tutta questa gente. Però la storia della terra dei fuochi è una storia che mi ha insegnato molte cose. Mi ha insegnato innanzitutto che il problema dei Rom che allora affrontammo, che coincideva con il problema dei rifiuti, perché si mescolavano rifiuti umani a rifiuti solidi, diciamola con il termine giusto, venivano trattati come monnezza da prefetti della Repubblica italiana, non da persone occasionali, ma da prefetti che erano nominati per risolvere il problema. Chiamammo quello il crimine nascosto. Noi siamo un festival di cinema, ma un cinema dei diritti umani, quindi ogni tanto usciamo fuori dal seminato e ci occupiamo di iniziative. Siamo parte attiva in processi di difesa dei diritti umani, questo mi piace dirlo. Tra l'altro se siamo qui non è certamente perché ci piace il mare di Riace, ci piace, ma ci piace soprattutto quello che a Riace è stato fatto e intendiamo difenderlo. Posso? 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 Sì, figurati. Tra le storie ne voglio aggiungere una perché è emblematica e riguarda un luogo qua vicino a Riace, non molto distante. Si chiama Casignana. Un'inchiesta, lì c'è una discarica, un'inchiesta Black Garden, si chiama Giardino Nero, con una sentenza, un processo, una sentenza ormai arrivata alla Cassazione. Ha dimostrato che una ditta, andiamo per sintesi, però che una ditta, la ZM, che gestiva quella discarica, con complicità varie, comprese quelle che arrivano fino a Reggio Calabria, alla Leoni, ad altre cose, smaltivano il percolato, facevano, avevano deviato il percolato, che andava a finire in un torrente, rimbotta si chiama, e poi finiva a mare. E così risparmiavano tantissimi soldi, tantissime cose. Ed era un avvelenamento delle campagne, dei territori, una cosa incredibile. Alla fine noi siamo stati parte in causa nel processo, sono stati condannati, è stato condannato Zoccali, Giuseppe Saverio, facciamo i nomi, procuratore speciale di questa ZM, è stato condannato Giorgio Siriti, il rappresentante della Leonia, è stato condannato Antonio Giovanni Crino, che era il responsabile tecnico della società, e che era il fratello di Pietro Chirino, sindaco di quel paese. Io voglio dire questa cosa perché mi ha colpito molto un fatto. La procura di Locri, diretta da D'Alessio, che è lo stesso D'Alessio che si è occupato di Mimmo Lucano e della sua cosa, in modo molto scenografico, il napoletano, non è tutti i napoletani, sono scenografici, sono essenziali. La scenografia è mondiale, il modo scenografico di dire le cose, in un'intervista alla Iena, ma anche in moltissime altre occasioni, cominciò, fece dichiarazioni assolutamente importanti, è una bomba ecologica, un delitto contro l'umanità, ci sono complicità varie, è un'altra Etna, disse in un'intervista alla Cosa. Alla fine di questo discorso sicuramente sarà stato confatti di motivi, mentre la parte amministrativa di gestione non si poteva fare altro, eccetera, chi poi dirigeva la Cosa pubblica non aveva responsabilità. Un caso Lucano, al contrario, capito? Una cosa veramente che mi ha colpito e che consegno alla vostra memoria, come impressa nella mia. Certo, tutte storie molto toccanti. Volevo dirvi la cosa che interessa Riace, è questa, che quella storia di Masseria del Pozzo mi ha insegnato appunto una cosa importante, che in Italia tutti i problemi che riguardano le minoranze, come i Rom o come i migranti, che sono la parte più fragile della nostra società, non vengono consegnati al Ministero delle Politiche Sociali, che pur esisteva all'epoca, ma veniva consegnato al Ministero dell'Interno, perché è un problema di ordine pubblico. I Rom non sono un problema umano, sono un problema di ordine pubblico, quindi va affrontato da prefetti, questori, poliziotti e così via. All'epoca la persona che ci aiutò molto, voglio dirlo perché la storia di Riace è un déjà vu, come dire, di queste cose, la persona che ci aiutò molto si chiamava, e per fortuna si chiama ancora, Luigi Mancuni. Ci ha ricevuto e ci ha dato una grande visibilità, ha intervenuto, ha portato i parlamentari nel campo dove fumavano i rifiuti e i bambini, i 250 bambini, vivevano dentro i rifiuti con escoriazioni sulla pelle e una serie di malattie, ed è andata avanti per molto tempo. La persona invece a cui abbiamo dovuto riferire, perché era lui che decideva tutto dei Rom in Italia, si chiamava Mario Morcone. Guarda caso, due persone che abbiamo trovato sul percorso della storia di Riace. Sono passati dieci anni e siamo ancora lì, secondo me. Ancora il problema dei migranti resta un problema di ordine pubblico, di sicurezza, ahimè. Il Ministro dell'Interno ha chiamato i migranti e abbiamo dovuto rimandare indietro un carico residuale. Un carico residuale, certo. Un'espressione che rimarrà nella storia della nostra... Non parlasse di merci. Appunto. Quindi sono delle cose che ritornano. Lui ha parlato, mi ha fatto ricordare questa cosa che avevo non dimenticato, ma avevo accantonato. Beh, però c'è da dire che con noi c'era pure Alex Zanotelli. Anche quella volta c'era Alex Zanotelli, sicuramente. Comunque, grazie per esserci stato. E possiamo vedere questo film che è di Claudio Metallo, un autore calabrese, molto giovane. Ha collaborato per lungo periodo con Presa Diretta. Il film racconta la storia. A caldo è stato girato. Il 14 dicembre del 1990 la motonave Rosso si arena sulla spiaggia del comune di Amantea. Prima del suo ultimo viaggio la Rosso era stata affittata dal governo italiano per trasportare rifiuti tossici dal Libano all'Italia. A distanza di 20 anni, a un paio di chilometri dal luogo dello spiaggiamento, vengono ritrovati 90.000 metri cubi di rifiuti nocivi. Il documentario ripercorre le tracce di una controversa e scomoda indagine attraverso le testimonianze dirette di chi vi ha preso parte, compresa la cittadinanza di una Calabria che si ribella. Buona visione. Quel film, tra i tantissimi film, anche documentari a livello nazionale e internazionale, libri che sono stati fatti sulla vicenda delle navi dei Vireni, eccetera, questo che è stato scelto dagli organizzatori, probabilmente anche per dare la possibilità di far vedere una lettura dalla parte di Amantea, grazie anche a Francesco Cirillo che avete visto così determinato, che è uno dei frequentatori di Riace, ha realizzato quel murale, stasera doveva essere qui ma c'è stato in modo indiretto. Guardate, allora, una brevissima conclusione e soprattutto una spiegazione. Questa delle navi dei Vireni è in realtà una storia, una delle storie, uno degli scandali più grandi che non solo a livello europeo ma soprattutto lo nostro Stato italiano ha potuto vedere. Un mistero che si cerca di panare, si cerca di portare avanti, ma magari ogni volta si prova ad arrivare alla realtà, invece viene ricacciato giù intorno, in fondo al mare. Quanti sono, dove sono queste navi? Ci sono veramente? Chi lo sa? Anni di inchiesta, sette commissioni parlamentari, decine di inchieste di magistrati di tutta Italia, denuncia, attenzione da parte dei cittadini, non sono riusciti ad arrivare al punto di snodo di questa vicenda. Tutto questo è avvenuto sicuramente per resistenze, sicuramente per complicità varie, ma è avvenuto perché alla fine è mancato quello che si chiama la prova del delitto, ma più specificamente, trattandosi di nave, la prova del relitto. Perché non è stato, non si sono trovate queste navi, ma soprattutto perché non sono state cercate. Questa che avete visto è una nave ispiaggiata, non è una nave anomala, nel senso che è, come ha detto a suo tempo il ministro Giovanardi, che non è certamente di sinistra, probabilmente si è trattato di un non riuscito affondamento, che poi è portato allo spiaggiamento, a tanti misteri, a tante cose, lo squarcio fatto dalla parte meno in vista, dalla riva che poi si scoprì che era delineato tante storie, tante cose che non vanno fatte. Chi vuole un poco sintetizzare la storia di queste navi, di questi delitti in mare, deve fare un passaggio negli anni Ottanta. Negli anni Ottanta si verificato la vicenda delle navi de veleni. Si trattava di carichi di navi che andavano nei paesi del terzo mondo, anche qui una volta, a portare i rifiuti delle aziende del capitalismo italiano fiorente, nascente, del capitalismo europeo. Quindi una cosa nei confronti degli altri. Questa cosa durò tanti anni, portò affari lucrosissimi, le navi andavano e venivano, grazie anche a una carenza di leggi internazionali, il mancato rispetto delle convenzioni, quella di Londra, quelle altre convenzioni di Bamako, quelle che si stavano realizzando. Finché ci fu una ribellione, una ribellione in Italia perché nei porti, soprattutto da dove partivano, Massa di Carrara e poi la Spezia e poi altre cose, ci fu una ribellione degli ambientalisti. Stava nascendo un movimento ambientalista negli anni Ottanta molto forte, dei cittadini che protestavano, ma soprattutto perché a un certo punto in questi paesi, dal Libano alla Somalia, la Somalia dove non c'era un governo, c'era Limedi, quello che poi fu implicato nella storia di Ilaria Alpi, la gente si ribollò e costrinsero alla vergogna del governo italiano che fu costretto a portare delle navi, ad affittare delle navi attraverso una società che si chiamava Jolly Vax e riportare indietro questi rifiuti che poi non si sa solo in parte dove sono finiti, non si sa esattamente dove sono finiti. Dalle inchieste della magistratura sono nate tante cose vere, questo negli anni Ottanta, poi ci fu la seconda ondata degli anni Novanta che riguardò quelle che sono navi dei veleni, ma vengono classificate come navi a perdere. Si inventò un altro sistema, non più i rifiuti dell'Occidente portati nel Terzo Mondo finché non ci fu la ribellione, ad essere scaricati, per come è stato detto nel filmato e così di questo genere, ma addirittura un metodo diverso. Venivano affittate delle vecchie carrette del mare, venivano navi a fine corsa, sopravvalutate nel carico e poi cominciavano il loro viaggio, un viaggio che non aveva delle destinazioni fittizie, ma in realtà l'obiettivo era quello di autoaffondarsi. Questo metodo importantissimo aveva due vantaggi. Il primo che consentiva di liberarsi appunto di questi rifiuti senza in modo di queste scorie tossiche, nocive, radiattive, soprattutto radiattive, senza creare nessun problema, portando un guadagno da questo punto, l'altro elemento che venivano intascati i soldi dei LOITS, le assicurazioni, perché veniva sovraccaricato e valutato il carico, come se portassero materiali molto ricchi, poi portavano delle schifezze in un'intercettazione c'è scritto cosa non buona e cosa buona, anche con una parola, mi scuso che la pronuncio, anche merda, dove merda non significa certamente cioccolatini, ma significa qualcosa d'altro. Come partì questa inchiesta? Purtroppo l'inchiesta sulle navi a perdere partì da una segnalazione, dico purtroppo perché poi questo è diventato il rovello per alcuni di noi che ci accompagna da oltre 30 anni, è una cosa con cui ci siamo misurati e cose di questo genere, partì così, partì, noi eravamo entrati in possesso, dico noi di Lega Ambiente, nazionale, l'osservatore Ambiente Legalità, eravamo entrati in possesso, proprio per portare una testimonianza, eravamo entrati in possesso di una notizia molto grave, una denuncia molto seria, ci eravamo confrontati, avevamo verificato le fonti, le avevano verificate a Roma, eccetera, e poi giorno 2 marzo 1994 mi raggiunse Rico Fontana dell'Osservatorio Ambiente Legalità Nazionale e a casa mia battemmo questa denuncia e presentammo alla procura presso l'apretura di Reggio Calabria. Cosa conteneva questa pronuncia? Diceva che si sarebbe in presenza, con un accertamento, eccetera, di un trasporto di rifiuti via terra dal nord-sud, accompagnato, via con i camion, i tiri, eccetera, accompagnato parallelamente da un trasporto via mare, cioè da diversi porti ben definiti partivano queste navi, che portavano, approdavano a dei porti non controllati del sud del paese e della Calabria in particolare, compresa non solo l'alto di Reno-Cosentino, ma anche la provincia di Reggio Calabria, e poi con dei tir sarebbero stati portati in degli anfratti, in delle zone, delle cave, in Aspromonte. E venivano segnalate delle località precise che, per chi è di qua può sapere, la Limina, le zone vicino Cambari e cose di questo genere. Naturalmente una cosa di questa era allucinante, perché intanto andavano a toccare quello che per noi ambientalisti, perché si batteva, era un luogo sacro, la spromonte delle bellezze, la spromonte della varietà, che difendevamo rispetto a coloro che nel periodo dei sequestri dicevano che se lo Stato perde la guerra contro la mafia e i sequestratori non è perché non era in grado per le complicità varie, ma era perché questa spromonte è una terra impenetrabile, infratta, abitata da persone mezzebesi, insomma cose di questo genere. Ci eravamo ribellati, noi conoscevamo, camminavamo la spromonte, sapevamo della sua bellezza. Voi capite che una notizia di questa era una ferita al cuore. Partì un'indagine della procura presso l'apertura di Reggio Calabria che nel giro di poco ha cominciato ad acquisire consistenza a livello nazionale. Cominciarono ad arrivare segnalazioni di altre procure, altre inchieste. Il corpo forestale di Brescia, un corpo forestale attrezzatissimo in questa cosa, cominciò a mandare dei documenti molto importanti. Piano piano crebbe questa cosa con interventi in varie procure fino ad assumere una dimensione che non è presuntuoso né eccessivo dire di carattere planetario. Perché i traffici italiani si legavano a traffici di altri paesi a livello mondiale, incrociavano territori come la Somalia, proprio dove in quell'anno, in quel marzo di quell'anno, era morta Ilaria Alpi e Ivan Krovatin. Questa è una storia troppo nota per doverla riassumere o raccontare, ma certo c'era la storia della mala cooperazione e cose di questo genere. spuntarono personaggi e storie veramente allucinanti come quella che riguardava un ingegnere ormai noto, si chiamava Giorgio Comerio, se vi capita andatela a cercare nelle cose così approfondite, che era uno che si era impossessato di tecnologie che l'Europa aveva scartato perché non percorribile, non sicure e che lui aveva messo in campo, cioè la storia di affondare rifiuti radiattivi attraverso dei penetratori, dei siluri dentro cui venivano collocati e poi fatti cadere per ricaduta, c'è un filmato che rappresentava cosa, nei fondali marini. E a chi, protestando, diceva ma come, ci sono i dattati, voi non potete affondare nel mare, questo rispondeva, no, ma noi non siamo dentro il mare, siamo sotto i fondali, nella parte metà. E' uno dei tanti episodi che si incrociano cose che attraverso le inchieste sono venute avanti. L'inchiesta della Procura di Reggio Calabria si scontrò subito con grandi difficoltà, si scontrò, fece il conto anche con l'atteggiamento dello Stato e dei servizi segreti italiani, del Sismi, delle altre, che da una parte collaboravano all'inchiesta della Procura e delle procure, dall'altra parte però la osteggiavano e facevano il doppio giochismo tipico che poi creò tanti dubbi, tanti problemi. fu un movimento in cui si misero insieme affaristi senza scrupoli, politici corrotti, funzionari che non facevano il loro dovere alle dogane, alle altre cose, tanti di questi personaggi apparati massonici, ben definiti dalla loggia di Monte Carlo, alle altre cose che insieme facevano. In tutto questo discorso però il riferimento alla base sui territori era considerato dalla Camorra e dall'Andrangheta, soprattutto per quanto riguarda la Calabria e dall'Andrangheta. L'Andrangheta in questo sistema così internazionale doveva fare soltanto da service, fare il lavoro sporco della consegna, del trasporto, delle cose in genere. In realtà così cambiano le cose. L'Andrangheta è la criminalità organizzata attraverso questo sistema che vedeva i apparati dello Stato, vedeva settori dei servizi segreti italiani, quelli ufficiali, non quelli deviati, acquista potere, diventa Stato nello Stato, potere nel potere. E davanti alle commissioni di inchiesta che poi andarono a dire ma che Stato è uno Stato che invece di difendere il territorio, di difendere la sovranità, la salute della popolazione, permette queste cose, la risposta è stata quella di fare che questo avveniva non contro lo Stato, ma rispondendo e obbedendo a un certo Stato. E dentro l'inchiesta, documenti desegretati degli anni successivi, non facciamo solo un racconto molto veloce per arrivare alla conclusione, si scoprì appunto che questo avveniva con delle coperture fondamentali che parte dei servizi segreti contribuivano a questo sistema dei rifiuti perché avevano il problema anche delle centrali nucleari, delle basi nucleari italiane dove venivano depositati questi rifiuti. Erano anni che cominciarono tra gli anni Ottanta e anni Novanta, la caduta del muro di Berlino aveva aperto tutto il mercato delle armi anche nucleari della Russia, nel Bar Partico venivano buttati i rifiuti, cominciò questo scambio. Il suo rapporto con la Capitaneria e con Militare a un certo punto diventò complesso. Il comandante della Capitaneria di Porto, piuttosto che lasciarlo assegnato alla Procura della Repubblica, lo chiamò a lavorare di nuovo nella Capitaneria. Ostacoli di ogni tipo. Poi partirono per la Spezia, quella notte, quella sera, partirono tra il 12 e 13 dicembre del 1995, dovevano andare alla Spezia, poi andare a Salerno, poi andare in altro, si era in un punto decisivo. Si erano scoperte delle cose, dovevano essere solo verificare. Dalla Spezia stava per partire una nave che era appartenuta ai servizi segreti e già si sapeva che c'era la possibilità di scoprire in diretta, bloccarli mentre trasportavano quei carichi. Non arrivò Natale De Grazia alla Spezia, morì, e morì, non come diceva, in circostanze escarabili, morì perché evidentemente alla Spezia non doveva arrivarci. E anche su quella morte cominciarono dei problemi incredibili, poi vi invito ad approfondirle attraverso tante cose, praticamente due autopsie fatte in ritardo, soltanto perché hanno insistito i carabinieri. Lui morì vicino Salerno, si era fermato in un ristorante a campagna per... avevano fatto sosta, stavano andando alla Spezia su una macchina con, diciamo, la targa mistificata, eccetera. Era con lui, c'erano due carabinieri, si fermarono per una cena in questa cosa, quando ripartì si sentì male in macchina e morì. Questa è la testimonianza ufficiale. La prima diagnosi fu morta e improvvisa dell'adulto, una sorta di infarto, sì, di arresto, patia. In fretta, molto in fretta, liquidarono questa cosa. Ci volle l'intervento del procuratore della Repubblica di Reggio che sapeva che missioni aveva, che cariche aveva, un uomo che era sempre, come dire, faceva tutte le analisi, tutte le cose giuste, a chiedere questa autopsia, che fu assegnata ad una dottoressa inesperta che fece con molta superficialità questa cosa. i familiari protestarono e dopo un po' di tempo o un anno fu fatta una seconda autopsia che fu assegnata sempre alla dottoressa del vecchio, quella che aveva fatto la prima e che si preoccupò di vedere se non c'erano nelle analisi droga, eccetera, e non fecero nessun accertamento sulla parte che riguardava l'arsenico, le cose di questo genere. passarono 17 anni, 17 anni dopo partì un'indagine della commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti dedicata proprio al caso De Grazia e da questa cosa si scoprì in modo chiaro illuminare il professore Arcuri del ditor Vergata per conto della commissione di inchiesta, quindi per conto dello Stato dimostrò che la morte di Natale dei Grazia seppure non si potesse determinare non si poteva determinare con esattezza sicuramente non fu per morte naturale ma fu per causa tossica quindi sostanzialmente era stato avvelenato. Voi capite che una notizia di questo tema sconvolge complessivamente queste cose è certo fa riflettere sul perché il presidente Ciampi nel dare quella medaglia scrive in situazione con pressioni atteggiamenti ostili e cose di questo genere evidentemente si era un punto della realtà andiamo per gradi tutto questo dove avrebbe dovuto far ripartire le indagini non solo sulla morte di De Grazia ma più generale sulla questione delle navi dei veleni invece si pensò anche in questa occasione di archiviare ma ecco questa storia delle navi dei veleni di De Grazia noi la definiamo spesso sono come delle fiumare carsiche come le fiumare che abbiamo in Aspromonte che scorrono impetuosi in determinate punti dell'anno sempre vogliono travolgere tutti poi improvvisamente continuano a scorrere sotto non si vede nulla e tu ci cammini sopra per anni e non accade nulla finché poi non ritornano sempre così è avvenuto in tanti quest'anni ed è un tormento un rovello che ci accompagna inchieste cose fatti concreti eccetera si arriva al 2019 proprio in occasione della presentazione dell'anniversario di Natale delle Grazie del 12 dicembre del 2019 un servizio di fanpage sconvolgente con delle dichiarazioni incredibili portano una terza verità sulla morte di quest'uomo Natale delle Grazie non sarebbe sarebbe morto sì non sarebbe morto per morte naturale ma non avvelenato ma perché sequestrato e soggetto a un pestaggio e per dimostrare questo si facevano vedere le foto scattate dal medico legale della famiglia nel momento in cui fu fatta la prima autopsia con questo volto deformato una cosa assolutamente incredibile ma la motivazione come mai come mai questa cosa perché la tesi e questa Natale delle Grazie oltre le navi era entrato in possesso dei documenti e delle cose secondo cui nelle centrali italiane particolarmente a Bosco Marengo in provincia di Alessandria sarebbero stati riprocessati le scorie che venivano depositate e nonostante un referendum nel 1987 che non consentiva assolutamente nessun trattamento di queste scorie pensate un po' queste queste scorie questi questi rifiuti riprocessati diventavano armi nucleari che venivano forniti ai paesi del blocco non atlantico del blocco opposto al Pakistan Iran Iraq eccetera una cosa quindi bisognava fermarlo e l'hanno fermato questa notizia che sembra costruzione di una serie tv in realtà faceva il paio con quanto si era scoperto a Matera nella centrale della Trisaia il procuratore pace scoprì che in realtà la 64 barri di uranio erano state utilizzate e che lì venivano formati nella costruzione delle bombe atomiche tante persone che sono diciamo di paesi ostili al blocco a cui apparteneva l'Italia come vedete per questo la presenza di servizi segreti e cose di questo genere guardate allora io ho conosciuto Natale di Grazia ci hanno chiesto delle testimonianze e sono alla parte finale Natale di Grazia era una persona l'ho conosciuto da giovane a Gallico che è un luogo vicino Reggio Calabria dove andavamo a fare il mare stavamo insieme eccetera poi l'avevamo rincontrato qua ceccetti che in quel periodo ora è mia moglie ma in quel periodo in lega ambiente si occupava di questo era un punto di riferimento per tutto quello che riguardava la difesa ambientale in un momento in cui non c'erano leggi di tutela così estese come ci sono oggi lui era un punto di riferimento per qualsiasi cosa potesse riguardare delitti contro il mare o anche il salvataggio di una tartaruga qualsiasi cosa che potesse era un ambientalista convinto non era di sinistra aveva un senso un grande senso dello Stato un grande senso della giustizia era un uomo con la schiena dritta e diceva io non sopporto le cose storte non sopporto il lecchinaggio chiamava non mi piace questa cosa qua ed era talmente come dire attento alle regole tu stavi con lui magari tutta la sera giocavi facevi le schiticchiate come vengono chiamate qua quelle cene simpatiche tra giovani eccetera andava al cinema insieme o giocavi a pallavolo andava a scinare eccetera se però nonostante tu fossi il suo compagno di barca perché era un atleta molto bravo eccetera se però lui ti avesse incontrato il giorno dopo perché tu dovevi fare gli esami per la patente nautica e gli dice ma a Natale devo fare questa cosa lui ti avrebbe detto no ti do un libro così che viene spiegato bello eccetera e quel giorno sarebbe stato molto sereno perché dice molto severo perché diceva io ti affido una licenza che poi serve per il mare e il mare è la cosa più bella da difendere e non non ti posso costringere a a fare delle cose incredibili un padre molto serio uno molto attrezzato che però andò in urto e finisco finì in urto con i poteri forti come si chiamano adesso anche all'interno della cosa militare durante l'inchiesta durante una perquisizione da un tale ex appartenente alla marina militare che era coinvolto insieme a Comerio in traffici internazionale questo a un certo punto di fronte a questa arroganza gli parlò questo vicica gli parlò non parlare tu dice perché nella marina adesso ti dico tutte le corruzioni di boa di cose eccetera quindi è meglio che tu stia zitto lui disse scrivi a verbale questo scrivi a verbale andiamo avanti e lui gli disse stai attento per la tua carriera conosco molta gente importante stai attento per la sua carriera questa è una delle cose nella caponia di porto qua veniva fatto poco prima della sua morte fu contattato questo risulta da alcuni ufficiali del Sios il Sios è il servizio segreto della marina quello che dovrebbe controllare sul mediterraneo e non si sa che cosa potessero volere da lui una cosa certa che tanta gente voleva fermarlo perché lui perché lui e non il procuratore perché lui e non perché lui aveva la capacità di collegare i fili rispetto non solo alle rotte ma anche alla tecnologia aveva una competenza specifica dal punto di vista maniera nesco eccetera ora Natale De Grazia non c'è più noi continuiamo nonostante tutto a richiedere verità e giustizia su questa storia sua personale la verità assoluta ma anche su questa storia delle navi le navi non sono state trovate perché non sono state cercate eppure è un diritto dei cittadini che abitano determinate zone sospetto di sapere se nel proprio mare ci sono delle cose che non vanno ci sono delle cose che possono attentare alla salute come un dovere dello Stato dire la verità rispondere alle cose che ci sono per questo noi continuiamo tutti quanti a batterci sono passati tanti anni da questi affondamenti ovviamente a livello giudiziario non c'è la possibilità di ottenere niente però io credo che andare a chiedere che vengano desecretati gli altri documenti che sono nascosti negli uffici dei servizi segreti a codice rosso a distanza di 40 anni 50 anni il fatto che non si possa lavorare sui documenti per costruire questa verità è un fatto sospetto volendo con le nuove tecnologie oggi si possono andare a ispezionare i fondali per capire se davvero queste navi sono state affondate e per capire se è possibile ancora fermare attraverso l'usura e il logoramento un'incidenza negativa sulle persone soprattutto io credo che questi esempi di persone che sono attaccate al proprio dovere contrastano molto con tanti che utilizzano il potere che hanno per perseguire le persone che invece si battono gentilmente si battono per cose molto serie e qui si ricollega il filo della cosa l'ultima cosa che vi voglio dire è che abbiamo vi chiedo scusa noi a proposito dell'andrang a proposito di queste cose a un certo punto di questa nostra esperienza questa poi la regaliamo a Mimmo Lucano noi abbiamo fatto avete visto anche in quel filmato forse qualcuno che indossava questa maglietta questa eccola qua mi aiuti? sì sì allora facciamo una cosa un po' scenografica c'è scritto navi dei veleni i boss avvelenano la Calabria affondiamo l'andrangheta ma quello che è importante è che dietro c'è una una riportiamo un'intercettazione c'è scritto basta essere furbi aspettare delle giornate di mare giusto e chi vuoi che se ne accorga siamo nella piana di Gioia Tauro si sta costruendo una specie di deposito per materiali radioattivi ma l'obiettivo è gran parte di questi buttarli a mare e quello gli dice appunto basta aspettare dall'altra parte l'interlocutore l'interlocutore è il mare il nostro mare e quello gli dice ma sai quanto ce ne fottiamo del mare pensa ai soldi che con quelli il mare andiamo a trovarcelo da un'altra parte ecco questa è un'intercettazione di un dialogo tra i boss per dire che come dire che un'immagine della drangheta o della camorra che si fa cose ma in fondo tutela i territori non si occupa non crea fastidio alla gente è una poesia gli affari i soldi torna molto quello che diceva appunto un boss della camorra napoletana quando è stato scoperto dice da noi funzionava così la terra dei fuochi però era così anche in Calabria o tu pensi che in Calabria si facevano scopro i soldi interessano tutti e per i soldi si compra qualsiasi cosa ecco contro questa logica contro questo coacervo di interessi che vedono lo Stato diventare antistato con collegamenti di questo genere io credo che sia importante alzare il muro dell'attenzione della nostra attenzione di tutti e continuare a batterci a partire da Riace a partire dai luoghi più piccoli di quest'Italia a chiedere verità giustizia perché un altro mondo possa essere possibile bene l'abbiamo portata molto avanti e stiamo a Mimmo beh comunque l'intento era quello di partire dagli asini per arrivare ai fondali marini ci siamo riusciti anche se sforando un po' i tempi ma avete sentito le voci e le impressioni mi piacerebbe di cibo di cose buone eccetera però avete sentito le voci di testimoni quindi due ex sindaci un attivista dei diritti umani che si occupa da una vita di ambiente di eco mafie quindi di più non potevamo fare abbiamo provato a farvi vedere anche una testimonianza filmata un po' datata ma qualcosa di molto calabrese era un film nato qui fatto da un giovane calabrese che poi ha fatto la sua carriera adesso è diventato molto più importante però era questo un po' l'obiettivo quello di non girare le spalle davanti a un problema più grande siamo partiti da Riace da un processo quello di Mimmo Lucano siamo arrivati ai crimini internazionali c'è un filo che lega tutto questo è un filo che passa per la Calabria per cui spero che siamo riusciti a fare un po' di se vogliono approfondire voi cliccate Natale dei Grazi Navi di Venezia ma soprattutto su Rai Play o su altre cose andate ci sono tanti documentari scrivete Navi a Perdere interviste e cose di questo genere ci sono tanti articoli però per esempio Carlo Lucarelli che conoscete tutti che è uno straordinario ha oltre a scrivere un libro Navi dei Veleni ha fatto un film che voi potete vedere con Rai Play scrivete mi pare Navi a Perdere Carlo Rucarelli e questa cosa qua e così la Rai per esempio ha anche dedicato a De Grazia tutto un filmato molto bello che guardate in nome del popolo italiano ci sono alcuni personaggi che hanno segnato la storia di questo paese e c'è anche un filmato un docu film dedicato a Natale De Grazia approfondire queste cose significa conoscere una realtà un po' più complessa che è difficile sintetizzare in un incontro come questo di oggi certo di questo ci sono un filmato che è stato un filmato un filmato un filmato un filmato